L'avevamo vista a Pesaro appena due settimane fa primeggiare nella World Cup di ginnastica ritmica, conquistando un risultato storico attraverso i titoli a cerchio, palla, clavette e nel concorso generale individuale. Questo weekend invece a Tel Aviv, Sofia Raffaeli ha scritto la storia con la S maiuscola. La diciottene di Chiaravalle, porta colori della ginnastica Fabriano, ha infatti vinto il titolo europeo alle clavette e al cerchio, conquistando l'argento alla palla. Mai un'italiana aveva raccolto titoli europei agli attrezzi. Ce l'ha fatta Sofia che due settimane fa, ai microfoni di Marco Cadeddu, commentava così il grande risultato di Pesaro, guardando con ambizione ai seguenti impegni internazionali. Sono molto orgogliosa di questo risultato e devo ringraziare comunque tutta l'Italia, le mie allenatrici, la società ginnastica Fabriano, le Fiamme Oro e la federazione che mi ha dato questa opportunità magnifica. Abbiamo lavorato molto in quest'ultimo periodo per cercare di migliorare sempre di più tutti e quattro gli esercizi. Diciamo che ci siamo riusciti e c'è ancora molto lavoro da fare, però è un buon inizio. Ecco, i prossimi obiettivi quali sono Sofia? E avrò un europeo a breve, partiremo tra una settimana e poi sicuramente i mondiali che verranno a settembre a Sofia. Naturalmente il sogno è Parigi 2024. Sì, quello è il sogno principale.